Il club è atteso domani alle 17 all'amichevole casalinga con il Fosso Ombrone, intanto giovedì Verranno svelati i gironi di Lega Pro, Perugia, Fabinho salute, domani sera al Curi arriva la Spalla, Foligno e Città di Castello lavori in corso Presentata a Perugia la 51esima edizione del trofeo Luigi Fagioli con tante novità in vista Automodellismo alle 20.50 nel TRG Plus speciale sul Mondiale Ogubino Tennis Fabiano nel tennis training Foligno vola alle Olimpiadi di Rio Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva Tornato ad allenarsi dopo un giorno di riposo il Gubbio che ha ripreso con una doppia seduta che verrà replicata domani Giovedì invece è prevista una seduta mattutina mentre è stata annullata l'amichevole serale con la Juve Stabia Complice il sopraggiunto impegno in Coppa Italia dei Campani Il Gubbio disputerà un test pomeridiano con fischio d'inizio alle ore 17 al Barbetti con il Fosso Ombrone Formazione che milita nel campionato di eccellenza marchigiana con ingresso libero allo stadio Per quanto riguarda il mercato verso il testeramento il laterale destro difensivo Scuola Genoa-Marghi per il ruolo di centrale difensivo In Pol c'è il classe 96 crocchianti di proprietà dello Spezia Mentre il ruolo di punta centrale la società non ha fretta ed è possibile che la situazione si possa sbloccare ad agosto inoltrato C'è attesa in Casa Rosso Blu per la data di giovedì 4 agosto quella che definirà la prossima stagione di Lega Pro Al mattino si svolgerà il Consiglio federale con la scelta dei club ripescati Mentre nel pomeriggio verrà riunito il Consiglio di Lega per stabilire la composizione dei tre gironi del campionato 2016-2017 Che inizierà il 28 agosto con la prima giornata Doppia seduta a Pian di Massiano per il Perugia nella giornata odierna ma soprattutto la prima da 4 anni a questa parte senza Fabinho L'esterno brasiliano di fatto è ufficialmente passato al Vicenza ed ha voluto salutare i suoi ormai ex tifosi Con una lettera in cui ringrazia la città, i tifosi, il presidente, il direttore sportivo e i compagni Confermando che la scelta di cambiare è avvenuta in comune accordo con la società perugina In entrata dopo il difensore Mancini che arriva a titolo definitivo dalla Fiorentina ed ha firmato sino al 2020 Si punta al ritorno di Aguirre che non ha chiuso ancora con il Panatinaikos Domani sera la truppa di Bucchi affronterà le 20.30 al Curi La Spal Possibile che il tecnico bianco-rosso confermi in toto l'11 titolare che ha pareggiato a Riti Bianche sabato sera con il Carpi Sempre domani ma alle 19 al Teatro Bonci di Cesena sarà svelato il calendario di Serie B 2016-2017 con la prima giornata fissata per sabato 27 agosto Al lavoro anche il città di Foligno nel ritiro di Montefalco con la società ormai certa di essere iscritta al prossimo campionato di Serie D Arrivano il nulla osta della Covisod, ora si attende soltanto quello della Lega Per quanto riguarda la squadra non fanno più parte del gruppo alcuni elementi in prova come i difensori Truzzi e Ventura E gli attaccanti Arboleda e Acciarini mentre Calsole e Ibox per una distorsione Per la difesa si attende solo l'ufficialità per Adamo ma interessa sempre l'ex Todi e Casterrigone Moracci Mentre per il centrocampo dovrebbe firmare nelle prossime ore l'ex Gubbio Filippo Fondi Ma sono seguite anche le piste che portano alla classe 1995 Camilli lo scorso anno al Poggi Bonzi e il 19enne Camilletti dell'ex Cannara Prima amichevole fissata per sabato 6 alle ore 20 e 30 al Blasone al cospetto dell'ambizioso Matelica Mentre il sabato successivo alle 17 sfida alla Voluntas in terra Spoletina Lavori in corso per il Città di Castello che è tornato a sudare al Bernicchi nell'annata in cui la squadra bianco-rossa sarà protagonista del reality Stelle del Calcio di Ita TV A tal proposito è fissato e inserato un CDA societario per ratificare l'accordo con il proprietario del network Tolomeo Nel frattempo il neo allenatore Condemi affiancato dai collaboratori Puleo e Genco sta valutando i 40 giocatori che al momento compongono il vasto gruppo bianco-rosso Alla fine delle prime amichevoli che vedranno Città di Castello affrontare in sequenza Angelana, Pietralunghese e San Giustino Ci sarà una scrematura di circa 15 elementi per comporre una rosa di 24-25 giocatori Da evidenziare che si è aggregato il centrocampista Cioffi, classe 98, proveniente dalla Juniors del Gubbio Con una presenza in prima squadra nell'ultimo campionato di D Passiamo ai motori perché è stata presentata stamane a Perugia alla 51esima edizione del Trofeo Fagioli La celebre Crono Scalata e Gubbina che torna dal 19 al 21 agosto Vediamo La 51esima edizione del Trofeo Luigi Fagioli non attende altro che di essere corsa L'appuntamento estivo per eccellenza dell'estate a Gubbina che porta a Gubbio centinaia di curiosi e appassionati Oltre che agli equipaggi dei 250 piloti che si sono iscritti fino ad ora E ormai alle porte animerà i tornanti che conducono da Gubbio Fino al traguardo posizionato sulla Madonna della Cima E non sarà un'edizione qualunque visto che l'entusiasmo per la passata edizione Quella del prestigioso traguardo dei 50 anni Non ha ancora smaltito l'ondata di entusiasmo per la perfetta riuscita Regalando quindi all'edizione del 19, 20 e 21 agosto 2016 Un'altra forte ventata di novità La principale è data dall'inserimento della gara Gubbina Organizzata dal Comitato Eugubino Corse Automobilistiche Nello speciale campionato di 6 prove totali, energie alternative Dove si sfideranno in un'apposita categoria le chiavenga 1.6 turbo Con alimentazione ibrida e GPL che chiamerà i piloti a dare sfogo a tutta la loro abilità Attraverso l'utilizzo del Kersa, del compressore centrifugo Dal caratteristico centro storico fino alla linea di traguardo L'altra novità di grandissimo impatto, soprattutto sociale Data invece dalla sinergia stretta con il Comitato Paralimpico Italiano Del Presidente Francesco Emanuele Con la collaborazione nata l'idea di ospitare all'interno del Trofeo Luigi Fagioli Un trofeo con classifica e redattiva premiazioni dedicate ai piloti disabili Che vorranno iscriversi alla cronoscalata Eugubina Giudicata anche dallo stesso Presidente dell'ACI Perugia, Ruggero Campi Come una delle più belle gare di velocità in salita a livello nazionale non solo Lo stesso Presidente Emanuele ha voluto premiare il Presidente del CECA, Luca Uccellani Con un gaiardetto a suggerire quello che è divenuto uno stretto legame di amicizia nel nome dei motori E' un salto di qualità, un salto culturale, ma soprattutto di grande sensibilità del mondo eugubino Verso le attività delle persone con disabilità Per noi Gubbio è il fioralocchiello, in quanto abbiamo degli atleti di primissimo ordine Non ultimo il vostro amico Ubaldo Cecilioni Ma la gratitudine che esprimo agli organizzatori, al Presidente E' quello di aver voluto inserire il logo del Comitato Italiano Paralimpico Che è accoppiato al logo della FISAPS, che è la Federazione Italiana per le Patenti Speciali Completa l'opera per fare in modo che le persone con disabilità abbiano la pari dignità Alla cerimonia di presentazione hanno preso parte il Sindaco di Gubbio, Filippo Mario Stirati Assieme all'assessore comunale dello sport Gabriele Damiani Sul tavolo delle autorità anche l'assessore regionale Fabio Paparelli Il Presidente della Ciperugia Ruggero Campi E appunto Francesco Emanuele, Presidente del Comitato Paralimpico Italiano Confermato per la serata del 20 agosto l'assegnazione del Memorial Angelo Barbetti Anche se resta ancora top secret il nome del successore di Mauro Forghieri Vincitore dell'edizione 2015 Veniamo da un'edizione, quella dell'anno scorso Che è stata veramente memorabile, oserei dire Guarda perché è stata qualcosa di eccezionale Sia per tutte le iniziative che sono state fatte Sia per tutto il successo che ha avuto È stata un'edizione memorabile Però questa non significa che era un punto di arrivo Anzi sarà stato sicuramente un punto di partenza Per tutte le edizioni che verranno E che cercheremo di far risultare naturalmente sempre bellissime e stupende Tutto pronto per il Mondiale Automodellismo a Gubbio Con gli ultimi preparativi in vista delle prove libere del 4 agosto Sono 130 i piloti iscritti in rappresentanza di 24 nazioni da tutto il mondo Enorme soddisfazione da parte del club automodellistico 5 Colli di Gubbio Che è l'organizzatore dell'evento Stasera interviste in anteprima dalla pista Mario Rosati In onda sul nostro TRG Plus alle ore 20.50 Replica domani alle 13.30 Chiudiamo con il tennis A pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi Giunge una bellissima notizia per la Tennis Training School Foligno Più in generale per il tennista azzurro Thomas Fabiano Atleta Tarantino class 89 Tesserato con il circolo Folignate Che farà parte della spedizione azzurra di tennis Insieme a Sara Errani, Fabio Fognini, Karik Knapp, Paolo Lorenzi Andreas Seppi e Roberta Vinci A causa delle defezioni che si sono susseguite nelle ultime settimane Fabiano è stato ripescato nel main throw dal singolare maschile Il tennista pugliese allenato dal coach Fabio Gorietti È numero 110 delle classifiche mondiali Nonché numero 4 del tennis azzurro Per Fabiano il CONI chiederà anche l'iscrizione Nel doppio che giocherebbe insieme a Paolo Lorenzi I tabelloni del torneo olimpico Che si giocherà all'Olympic Tennis Center di Rio Sul cemento dal 6 al 14 agosto Saranno sorteggiati giovedì 4 agosto Saranno 5 le medaglie d'oro da assegnare E allora un grande in bocca al lupo Era l'ultima notizia Ci fermiamo qui Grazie per averci seguito a voi Una buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti.